Una vera e propria sinergia, quella instaurata ufficialmente anche attraverso una conferenza stampa tra il Martà, il Museo Archeologico di Taranto, e l'AMAT, l'azienda municipalizzata per i trasporti urbani. Il tutto con l'obiettivo di sostenere e incentivare il turismo sul territorio del capoluogo tarantino. Dunque, quale sarà il ruolo dell'AMAT? Lo chiediamo al Presidente della Municipalizzata, Giorgio Agire. Sì, attraverso questo protocollo di intesa, che devo dire è il primo che viene fatto con il Marta e la società di mobilità di trasporto, noi cerchiamo di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico unitamente alla possibilità di usufruire di una scontistica di quello che è la visita del museo. Quindi questo servizio sarà aperto non soltanto ai turisti, ma anche ai cittadini e ai nostri dipendenti. Quindi attraverso una scontistica si potrà usufruire del biglietto del mezzo pubblico, inteso non soltanto come trasporto degli autobus, ma anche con le idrovie, e una scontistica di quello che sarà l'ingresso del museo. Il Museo Archeologico di Taranto sempre più all'interno del tessuto sociale cittadino. Questa sinergia con l'AMAT per dare una spinta al turismo ionico. Sicuramente uniti per il territorio, per la valorizzazione culturale e anche turistica, per avere uno sviluppo economico. Con un protocollo d'intesa che sancisce quindi una sinergia importante proprio per lo sviluppo territoriale, con reciproche riduzioni. Quindi tutti i possessori del biglietto del MARTA hanno una scontistica sia sulle idrovie che sui trasporti, pari al 25%, e poi anche per i dipendenti dell'AMAT uno sconto del 25% sui biglietti di ingresso del MARTA. Viceversa per tutti i possessori di biglietti AMAT una scontistica del 25% per delle idrovie sull'ingresso del MARTA, mentre invece abbonamenti mensili e annuali hanno diritto a 5 o 10 biglietti per gli annuali d'ingresso allo sconto del 25%. In più abbiamo ottenuto, comunque questo sono molto orgogliosa da direttrice appunto di questa struttura, una scontistica riservata ai nostri dipendenti, a tutti i dipendenti del museo. Grazie a tutti.